Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata di Macro. Oggi parliamo di Europa, cerchiamo di capire cos'è l'Europa oggi, ma soprattutto cosa potrebbe essere l'Europa domani. Cerchiamo di fare un po' un riassunto delle puntate precedenti. Cosa è successo? Lunedì scorso Mario Draghi ha presentato in conferenza stampa a Bruxelles un documento dal titolo Il futuro della competitività europea. È un documento di quasi 400 pagine redatto dallo stesso Mario Draghi insieme ad altri economisti ed esperti del settore che indaga un po' le principali sfide, soprattutto economiche, dell'Unione Europea. Peraltro, nota da sottolineare, questo documento è stato commissionato a Mario Draghi dalla stessa presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel settembre del 2023. Ora, se non l'avete già fatto, io ovviamente vi invito a visionare il rapporto Draghi, lo potete trovare nella versione integrale sul sito del Sole24ore, ma quello che possiamo dire è che Draghi lancia un po' un monito, un appello, che in realtà è l'appello che gli esperti e gli studiosi lanciano da molti anni, ossia o finalmente l'Europa raggiunge una unificazione politica e si dota di un governo centrale oppure sostanzialmente continueremo a subire la concorrenza di Stati Uniti e Cina. Questo sicuramente è un aspetto molto interessante perché sottolinea, come accennato, un concetto che in realtà non è certo nuovo. Insomma, l'Europa divisa non va da nessuna parte. La parola d'ordine del rapporto, che peraltro dà il titolo al documento, è quindi competitività. Il problema quindi per Draghi è che la differenza sostanziale tra l'Unione Europea e Stati Uniti e Cina su tutti è che questi due paesi hanno un governo, che sia federale o centrale, però comunque si presentano sulla scena internazionale con una voce univoca, laddove invece l'Unione Europea è ancora ostaggio di tanti particolarismi e di molti Stati membri che rivendicano la propria sovranità nazionale. E questo è ciò che impedisce appunto di competere con questi paesi a certi livelli. La speranza di molti è che questo rapporto possa in qualche modo fungere da bussola per la prossima Commissione Europea, anche se proprio a proposito di Commissione Europea non mancano i problemi, perché faccio solo un accenno, poi approfondiremo ovviamente il tema durante la diretta. Dopo diversi rinvii, la settimana prossima, in particolare il 17 settembre, dovrebbe effettivamente essere comunicata la nuova formazione della Commissione Europea, ma c'è un certo tumulto tra alcuni partiti. Non da ultimo i socialisti che sostanzialmente hanno minacciato di porre un veto all'eventuale nomina di commissari conservatori da parte di Ursula von der Leyen e tra questi spicca insomma la figura di Raffaele Fitto, ma poi appunto come accennato approfondiremo. Do allora subito il benvenuto ai miei ospiti, Roberto Castaldi, docente universitario e direttore del CESUE, Centro Studi sull'Unione Europea e direttore di Euractive.it. Benvenuto Roberto. Buongiorno, grazie dell'invito. Andrea De Petris, direttore scientifico del Centro Politiche Europee e ricercatore in diritto comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Benvenuto Andrea. Buongiorno, grazie per l'invito. E ultimo, ma non certo per importanza, il nostro Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Benvenuti a tutti e benvenuto Beda. Buongiorno, grazie. Allora, io vorrei andare subito da te Beda, perché oggi eccezionalmente, diciamo peraltro non sei a Bruxelles, ma sei, correggimi se sbaglio, a Budapest per un simil consiglio, chiamiamolo così, Ecofin. E anche se devo dire che è un po' un'eccezione, perché tu di fatto segui la politica europea, le istituzioni europee, lì dove la politica europea viene fatta. E alla luce di questo, Beda, vorrei chiederti innanzitutto, quali sono state le reazioni principali dell'Europa quando è uscito questo tanto atteso rapporto Draghi? Credo che le reazioni siano state di due tipi, o meglio di tre tipi. Ci sono stati coloro che hanno accolto il rapporto Draghi molto positivamente, ci sono poi quelli che hanno criticato il rapporto Draghi, in particolare laddove la relazione propone nuovo debito in comune, addirittura investimenti per 750-800 miliardi all'anno. E poi la terza reazione è quella di coloro che sono andati a leggere il rapporto capitolo per capitolo e hanno dato delle valutazioni, in alcuni casi positivi su alcuni aspetti, negativi su altri, ma che hanno preferito guardare ad alcuni aspetti piuttosto che al rapporto nella sua interezza. Quindi ecco, mi sembra che queste tre visioni sono emerse in questi giorni, sono inevitabilmente visioni parziali, sono visioni che valgono per certi aspetti il tempo che trovano, se posso usare questa espressione un po' colloquiale, nel senso che siamo ancora in una fase molto preliminare e soprattutto in un contesto politico molto delicato, perché sì, Ursula von der Leyen ha ottenuto la fiducia del Parlamento europeo in luglio, però non c'è ancora un collegio dei commissari e stiamo assistendo in questa fase a un fortissimo, un accesissimo dibattito politico e direi quasi partitico sulla formazione di questa compagine. Quindi inevitabilmente la fase di transizione influenza anche i commenti sul rapporto Draghi. Assolutamente, uno degli aspetti peraltro che più mi ha colpito di questo documento, ma che ha colpito anche Castaldi, visto che ne ha scritto insomma su euroactive.it, è che nel suo rapporto Draghi sembra un po' come dire ribaltare la solita narrazione a cui siamo abituati. Noi siamo abituati a puntare l'attenzione sui problemi, quindi sui costi della mancata integrazione europea, mentre Draghi sembrerebbe un po' ribaltare il punto di vista e punta quindi l'attenzione sui costi della sovranità nazionale, che sembra un dettaglio da poco, ma in realtà non lo è, Castaldi. Sì, perché specialmente se guardiamo la parte B del rapporto, cioè quella con tutti i dati, gli studi, che meno persone probabilmente leggeranno parlando di quasi 400 pagine, però lì su ogni settore Draghi mostra come l'agire divisi, separati, abbia un costo, cioè la nostra perdita di competitività in tutti i settori è legata al fatto che agiamo divisi invece che agire uniti. Da questo punto di vista il rapporto presenta sempre, come dire, prima i costi della sovranità nazionale, cioè mantenere la sovranità nazionale su questi temi ha un costo molto elevato in termini di perdita di competitività, di declino economico e così via. Poi ci dà le soluzioni e le soluzioni sono sempre relative all'agire insieme e ai benefici che potremmo avere dall'agire insieme. Però è interessante perché normalmente altri rapporti avevano solo questa seconda parte, quindi mettevano in evidenza i costi della non Europa, i costi della mancata integrazione. Draghi fa due parti, prima ci fa vedere i costi della sovranità nazionale e da questo punto di vista è fantastico, cioè la messe di dati che ci mostra rende qualunque posizione nazionalista o sovranista del tutto irragionevole, perché se uno vuole sostenere di voler fare gli interessi nazionali, gli interessi dei propri cittadini, va a vedere i dati e si accorge che non li fa. Io ne cito solo quelli più eclatanti e più noti. I 27 stati membri insieme hanno la terza spesa militare del mondo, il 45% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Quindi questo vuol dire che più di due terzi della nostra spesa militare non produce niente, sono soldi buttati dalla finestra. Mentre creare una difesa comune ci permetterebbe di risparmiare tantissimi soldi. Cito questo perché il rapporto, essendo sulla competitività, ci parla dell'industria della difesa, ma non della difesa. Questo è un esempio, come direi fuori, di cui si è sempre discusso e Draghi ce lo mostra rispetto alla parte dell'industria, ma vale su tutto. Sull'energia i dati del rapporto sono straordinari. Ci mette in evidenza come la divisione ci obbliga a pagare tra le due e le tre volte l'energia rispetto ai nostri competitori e nel lungo periodo questo porta all'industrializzazione. E lì Draghi ci mostra l'assurdità delle scelte fatte, sia collettivamente, cioè nei pochi campi in cui agiamo collettivamente, la regolamentazione del mercato energetico abbiamo una regolamentazione dannosa perché è obbligato ad avere il prezzo fissato in base al segmento di produzione più caro, che sono i fossili. Quindi facciamo la transizione ecologica, abbattiamo il costo dell'energia, ma non lo facciamo vedere ai cittadini. Quindi le proteste che noi oggi abbiamo rispetto alla transizione ecologica è legata al fatto che stiamo impedendo ai cittadini di vedere il beneficio che loro possono in realtà attrarre dal fatto di passare le rinnovabili che costano molto meno del gas. E così via. Quindi è un rapporto straordinario da questo punto di vista che va studiato e se uno lo studia nessun capo di Stato e Governo può dire che non serve l'integrazione europea, che non serve riformare l'Unione. Chiarissimo, quindi sostanzialmente il merito possiamo dire di questo rapporto è la sua razionalità e lucidità e nel mettere nero su bianco quello che è sostanzialmente poi ci diciamo da anni. De Petris. Appunto, forse un altro dei meriti di questo rapporto è quello di riportare ancora una volta in evidenza il tema più antico, se vogliamo, degli ultimi decenni dell'Unione, cioè il problema della suddivisione di competenze e di sovranità. Per fare quello che il rapporto chiede ci vuole la volontà degli Stati di trasferire parte della propria sovranità attuale verso un livello europeo e questo è il problema sul quale l'Unione gira da almeno vent'anni, dai tempi di quando si parlava di una riforma dei trattati che poi è arrivata in parte, come sappiamo, in maniera sofferta e con non poche difficoltà e resistenze. Ecco, forse qui il rapporto Draghi ci mette davanti un po' a una sorta di ultimatum. Non ci possiamo più permettere di tergiversare si deve scegliere che strada prendere, ovviamente la strada che il rapporto è molto chiara e se si vogliono raggiungere certi obiettivi, su certi aspetti, su molti aspetti delle politiche al momento anche nazionali, occorre la volontà di spostare, come dicevo, questa parte di sovranità a livello europeo. Chi si oppone a questo tipo di transizione, di modifica dovrebbe farlo tenendo conto del fatto che le conseguenze sono quelle che diceva prima anche Roberto Castaldi, cioè la competitività dell'Europa è messa in discussione, ma io direi la capacità di agire, non solo la capacità di restare sui vari mercati, perché è chiaro dopo le tali e crisi che l'Europa sta attraversando economiche, sanitarie, strategiche, militari, immaginare ancora un'Unione Europea che si basi su 27 sovranità che più o meno cercano un compromesso quando è opportuno farlo o quando è possibile farlo, mi sembra abbastanza miope e inefficiente. Veda, su questo vorrei sentire anche te, visto che come accennavamo appunto tu vivi proprio le istituzioni europee. Quello di Draghi è un out-out, un punto di non ritorno? Ma è difficile dirlo. Credo che il rapporto metta l'accento, come dicevano i miei interlocutori poco fa, sulla necessità per l'Unione Europea di aumentare la propria economia di scala. Se noi guardiamo ai vari aspetti delle crisi di oggi, la difesa, l'energia, l'ambiente, l'industria, l'Europa è in difetto di competitività perché la propria economia di scala è di troppo piccola rispetto a quella dei concorrenti più importanti, in particolare gli Stati Uniti e la Cina. Nei fatti Mario Draghi insiste molto sul fatto che è necessario avere un'economia di scala che sia più elevata, più federale di quanto non lo sia oggi. Oggi c'è un'economia di scala europea in un modo o nell'altro, ma è un'economia di scala che si basa sulla cooperazione dei 27 governi nei fatti. L'obiettivo di Mario Draghi è di andare un passo oltre e avere un'economia di scala che cresce grazie a una maggiore federalizzazione dell'Unione europea. E questo discorso, questo ragionamento Mario Draghi lo sviluppa lungo tutto il suo rapporto settore per settore. Ho citato prima l'industria, l'ambiente, la difesa, ma un altro settore palese è l'innovazione e lo spazio, per esempio. È inutile che l'Europa e i vari paesi europei partecipino alla ricerca spaziale contribuendo ciascuno le proprie forze nazionali. È un esempio abbastanza tipico, è necessario avere maggiore federalizzazione anche in questo campo, tanto più che lo spazio è immenso e l'Europa è inevitabilmente piccolissima, soprattutto in un'ottica confederale piuttosto che federale. Assolutamente. Peraltro un altro aspetto su cui volevo porre un po' la vostra attenzione e che secondo me è stato anche poco indagato rispetto sempre al rapporto Draghi, è che Draghi l'abbiamo visto, insomma, parla della necessità della riforma dei trattati. Questo tema in realtà ricorre come tanti altri molto spesso, ma Draghi va oltre e temendo sostanzialmente che non tutti i leader politici possano essere d'accordo con questa proposta, propone, scusatemi il gioco di parole, tutta un'altra serie di alternative. Ma l'aspetto in realtà peculiare è che in realtà il Parlamento europeo ha già approvato una risoluzione contenente proprio la proposta di una modifica dei trattati europei. Semplicemente non è mai stato dato seguito a questa risoluzione. Castaldi, cosa sta succedendo? Nel novembre scorso il Parlamento europeo per la prima volta ha usato l'articolo 48 del Trattato dell'Unione europea e ha approvato una proposta complessiva di riforma dei trattati. Secondo i trattati il Consiglio europeo, quindi la riunione dei capi di Stato e di Governo, a maggioranza semplice dovrebbe decidere se avviare una convenzione per la riforma dei trattati. Per adesso si sono riuniti cinque volte e non l'hanno mai messo nemmeno all'ordine del giorno, violendo palesemente i trattati, sia l'articolo 48 e il principio di leale collaborazione tra le istituzioni europee. Draghi sa questa cosa, per questo ci dà anche le opzioni alternative. Proviamo con le passerelle, con la cooperazione strutturata, con gli accordi intergovernativi, se proprio non riusciamo a fare la riforma dei trattati, che è la scelta giusta, cioè la scelta che permette di fare tutte le cose che Draghi indica. Da questo punto di vista vorrei fare due osservazioni. La prima è che se si vuole procedere, la riforma dei trattati è l'unico modo vero per procedere, per poter fare tutte le cose che Draghi chiede in termini di trasferimenti di competenze e di poteri e per avere la legittimità democratica per riuscire a farlo. Perché nella convenzione in forma dei trattati dentro ci sono i parlamenti nazionali, il Parlamento europeo, i governi, la Commissione e la società civile. Quindi se poi vogliamo riuscire a portare a casa il risultato, avere le ratifiche, dobbiamo coinvolgere l'Europa in un grande dibattito sulla riforma e da questo punto di vista molti discutono, ma si potrà fare il rapporto Draghi come un tempo l'agenda Draghi senza Draghi? Se parte la convenzione, anche a luce di questo rapporto Draghi potrebbe essere una delle personalità chiamate a presiedere la nuova convenzione europea come Fujiscard per la prima che produsse il tratto costituzionale, perché alla luce del rapporto e del suo prestigio può essere l'uomo in grado di favorire degli accordi dentro la convenzione e di parlare all'opinione pubblica europea con una credibilità senza pari. E come diceva Beda Romano, Draghi indica l'ancestità di un governo federale, ma perché? Uno, perché senza siamo spacciati. Due, perché Draghi è stato a capo dell'unica istituzione pienamente federale dell'Unione Europea, la Banca Centrale. E quindi è stato quello che quando c'è stata la crisi del debito sovrano, essendo l'unica istituzione pienamente federale, era l'unica che era pienamente in grado di agire, per cui anche se non era del tutto la competenza della Banca Centrale, è stata la Banca Centrale che era l'unica che aveva i mezzi per agire, per cui è stato Draghi che ha dovuto inventarsi strumenti nuovi della Banca Centrale per salvare l'euro, whatever it takes. Allora, già allora Draghi diceva il problema è che non può fare tutto la Banca Centrale, c'è una ragione se in tutti gli stati c'è la Banca Centrale, ma c'è anche il governo. Abbiamo bisogno di un governo. Questa cosa Draghi ce la ripete in forma in un'altra da vent'anni, giustamente, perché è vera, è ineluttabile. Il problema è che vent'anni fa potevamo sperare di avere tempo. Oggi la Cina, gli Stati Uniti sono andati così avanti che o ci dotiamo adesso di un governo federale, oppure è troppo tardi, cioè i gap di competitività, di risorse cresce sempre e rischiamo di arrivare tardi. Su questo vorrei sentire anche lei, scusate, De Petris, vorrei capire innanzitutto, ecco, era interessante quello che suggeriva Castaldi rispetto al futuro, al possibile futuro di Draghi, quindi vorrei una sua opinione su questo e vorrei, ammesso poi, vedo che fa una faccia un po' dubbiosa. No, no, anzi, notizia di oggi che, per esempio, a proposito di federalizzazione dell'Europa sappiamo che per fare un passaggio del genere c'è bisogno poi della volontà di quelli che attualmente sono quelli che una volta si chiamavano i padroni dei trattati, cioè gli stati. E tra gli stati ci sono ovviamente, come sappiamo, quelli più favorevoli all'opzione di federalizzazione e quelli che invece, i cosiddetti sovranisti, che verrebbero invece più favorevolmente in un ruolo centrale e più forte degli stati. La notizia di oggi è che Mario Draghi vedrà Giorgio Meloni, che viene ascritta almeno al momento al gruppo dei cosiddetti sovranisti, probabilmente perché entrambi hanno la percezione che ragionare insieme sia meglio che schierarsi su fronti diversi. Dopodiché un processo come quello ipotizzato adesso da Castaldi o anche prima da Romano, cioè federalizzare l'Unione Europea significa principalmente federalizzare, federale viene da Fedus, che è l'antico termine latino che si basa su un termine anche di fiducia, di condivisione delle competenze, ma di volontà anche di alleanza. Questo elemento della fiducia europea, secondo me, è un po' il punto centrale. Bisognerà vedere quanti governi nazionali avranno la volontà di fidarsi reciprocamente tra di loro e riuscire a creare quella massa critica che porta poi a questo passaggio, che anch'io condivido probabilmente è ineludibile, arrivati a questa fase storica. Prima giustamente parlavamo del tema della difesa. Draghi ha dato il suo placet sostanzialmente al programma a lungo termine per la creazione, per l'industria europea della difesa, proposto dalla Commissione Europea stessa in primavera al fine di rendere più preparata, più pronta l'Unione Europea alla guerra, soprattutto alla luce di quello che accade a livello internazionale. E proprio quello della difesa, lo accennavamo, è uno dei temi più caldi e divisivi in Europa. Sicuramente bisognerà capire se von der Leyen darà seguito alla proposta che aveva avanzato di un commissario specifico ad hoc per la difesa, che sarebbe già significativo. Ma quello che vi chiedo, e interpello prima De Petris e poi Castaldi, è, ma quindi sulla difesa dove stiamo andando, dove potremo andare e soprattutto usciremo da questo stallo? Personalmente non sono così convinto che creare un commissario ad hoc per la difesa significhi, per esempio, attrezzare l'Unione Europea per eventuali azioni belliche. Io ci vedrei prima di tutto un tentativo opportuno di coordinamento, come dicevamo prima, sia della spesa, sia della gestione delle risorse, che è un po' quello che è stato fatto in altri momenti di crisi su altri settori, pensiamo alla crisi pandemica e la capacità dell'Unione di intervenire in maniera unitaria in quel momento. Probabilmente creare un livello di co-gestione europea della difesa serve innanzitutto a rendere efficiente quel settore che in questo momento non lo è e una volta che sei più efficiente in termini di spese e di gestione delle risorse sei anche più efficiente in termini decisionali e questo ovviamente lo sa, viene appreso anche da fuori, dai terzi, che sanno a quel punto che quando si parla di difesa l'Unione parla con una voce sola e non con 27. Castaldi? Il problema è che il commissario viene chiamato alla difesa, ma in realtà è all'industria della difesa e questo rischia di creare un cortocircuito, cioè l'aspettativa nei cittadini che si vada verso una difesa europea quando si vuole soltanto cercare di coordinare meglio la spesa per la difesa degli stati membri. Però può essere comunque un passo in avanti importante, specialmente perché ci si dimentica che noi abbiamo una richiesta della Nato di raggiungere almeno il 2% del PIL per le spese militari e molti paesi europei sono sotto a partire dall'Italia e altri che invece stanno spendendo molto di più, come la Polonia che è oltre il 4%, comunque avranno difficoltà a mantenere quel livello di spesa, o i Baltici, cioè tutti i paesi che confinano con la Russia sostanzialmente, di mantenere quel livello di spesa. Cioè il rapporto mette in evidenza le difficoltà fiscali degli stati membri e questo vale sia per gli investimenti sulla transizione ecologica digitale che per la difesa. Allora il nodo vero qual è? È che gli stati membri dell'Unione europea sommati, hanno un debito pubblico che è inferiore alla somma del debito pubblico degli stati membri degli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America però hanno un debito federale che è enorme, mentre noi come europei non abbiamo un debito federale tranne i 750 miliardi del Next Generation EU. Cioè, niente, poco più dell'1% del PIL europeo. Allora è chiaro che quando Draghi propone il debito pubblico europeo per finanziare la transizione ecologica digitale della difesa, cosa ci sta dicendo? Se ci dotiamo di un governo federale come gli Stati Uniti, allora noi in realtà abbiamo un potenziale economico di risorse sulla fiscalità e sul debito pubblico enorme che possiamo sfruttare. E non dobbiamo fare tutto a debito, per questa è l'altra cosa. Perché col mercato unico dei capitali possiamo usare il nostro risparmio in tal senso. Una delle cose che mi ha colpito, il rapporto mi aspettavo battesse molto di più, è l'armonizzazione fiscale. Il rapporto Draghi cita tantissimi studi della Commissione, tantissimi libri bianchi. Ce n'è uno che non cita, mi ha molto colpito questo, quello dell'ultimo atto della Commissione Juncker che nel 2019 fece il rapporto sull'unione fiscale e mostrava che con un'armonizzazione fiscale nell'Unione Europea, quindi portando a livello mediano dell'Unione la tassazione, laddove facciamo una competizione sulla tassazione sulle imprese, avremmo recuperato circa 292 miliardi di gettito l'anno. A 292 miliardi di gettito sono una buona, come dire, una buona fetta rispetto a quei 750-800 miliardi di investimento in più all'anno di cui abbiamo bisogno. Quindi l'armonizzazione fiscale, il debito comune, la fiscalità europea, dove sono possibili, l'interessante è questo, quando noi parliamo di tasse a livello nazionale parliamo sempre di tasse su pensionati e lavoratori, quando parliamo di tasse a livello europeo pensiamo a come fare per tassare chi non paga le tasse nazionali, inquina, la speculazione finanziaria e così via. La tassazione europea non va a tassare i soliti notti, quindi ha anche un elemento di giustizia sociale al suo interno molto forte. Allora procedere verso l'armonizzazione fiscale, la fiscalità europea, il debito pubblico, che richiede un governo federale naturalmente, ci permetterebbe di avere quelle risorse per realizzare il rapporto Draghi. Permettetemi una battuta, il rapporto Draghi a me ricorda il piano dell'or. Il piano dell'or all'avvio del mercato unico proponeva di fare investimenti sulla transizione ecologica, sulle nuove tecnologie che era l'albore di internet, eccetera, per ridare competitività all'economia europea. Gli stati membri non hanno voluto finanziare il piano dell'or che è rimasta lettera morta in un cassetto e quindi 30 anni dopo ci troviamo che noi abbiamo perso competitività, la nostra economia non è più ai vertici come era ai tempi del piano dell'or. Ecco, la stessa cosa rischiamo col rapporto Draghi, cioè o realizziamo il rapporto Draghi che arriva appunto 30 anni dopo e ci sta dicendo che l'ultima chance non l'abbiamo fatto 30 anni fa, ma adesso lo dobbiamo fare per forza, perché altrimenti siamo morti, abbiamo solo di fronte una lenta agonia, cioè il declino diventa irreversibile, è straordinario. Se vogliamo il rapporto Draghi mette in numeri il vecchio adagio che l'Unione Europea è un gigante economico, un nanopolitico, un verme militare. Draghi dice, ecco, non siamo più neanche un gigante economico come eravamo prima, ma siamo un nanopolitico, un verme militare che vuol dire l'Unione è abbastanza forte dove abbiamo creato una sovranità europea, l'economia, ancora ci salviamo, ma sul piano politico e militare non contiamo niente se hanno anni i vermi perché la sovranità è rimasta interamente nazionale. Quindi noi dobbiamo fare un salto di qualità nel creare una sovranità europea. In un certo senso oggi i veri sovranisti sono chi vuole una sovranità europea, non chi vuole una sovranità nazionale ottocentesca del tutto inutile di fronte a stati continentali come Stati Uniti, Cina, India, Russia. Veda Romano, intanto però parliamo di debito pubblico, comune, parliamo di tante cose, però per capire quanto sarà arduo il cammino della prossima commissione basta vedere le prime parole del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner che subito dopo l'uscita del rapporto Draghi ha pubblicato un post su X, il vecchio Twitter, che vi leggo. Con il debito comune dell'Unione Europea non risolveremo nessun problema strutturale, le sovvenzioni non mancano alle imprese, sono vincolati dalla burocrazia e dall'economia pianificata. Ora sappiamo che per paesi come la Germania, l'Austria, la Svezia, la Danimarca e i Paesi Bassi, l'idea di un debito comune continua a essere un no definitivo, soprattutto poi adesso per la Germania visto la grave situazione economica che sta vivendo. Ma quindi Beda? è una reazione pavloviana. 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 Sì, è interessante, rappresenta per certi aspetti il sentimento di una fetta della società tedesca, ma il ministro delle finanze tedesco è un liberale, il suo partito è estremamente debole, il suo governo lo è altrettanto. Sono reazioni pavloviane dell'establishment tedesco di fronte a proposte che comportano non solo nuovo debito in comune, ma anche nuovi processi di integrazione. La Germania è europea, è un europeista in fondo, ma è uno ha gestito, ha promosso in tutti questi decenni un europeismo basato sulla confederazione, in altre parole su comunque sia la sovranità nazionale. Il principio della house in ordine, della casa in ordine, è sempre stato un principio che la Germania ha promosso in questi decenni. In altre parole, convinta che l'importante fosse di avere l'equilibrio macroeconomico e dei conti pubblici a livello nazionale. Finché l'equilibrio esisteva a livello nazionale, l'Unione Europea non aveva bisogno di altro se non di un processo di integrazione basato sulle legislazioni legate al mercato interno. Credo che la Germania di oggi sia in gravissima difficoltà e che questa convinzione della casa in ordine sia in dubbio, sia a rischio. Ecco perché io non sono totalmente pessimista sul futuro dell'Unione Europea, vista in questa prospettiva. sono consapevole delle difficoltà che l'Unione Europea sta attraversando e sono consapevoli delle tensioni che ci sono a livello nazionale e quindi sono anche molto consapevole delle difficoltà che ci saranno a mettere in pratica il rapporto Draghi. Al tempo stesso vedo una Germania in crisi e credo che la Germania dovrà a un certo punto porsi la domanda strategica se il principio della casa in ordine sia ancora attuale oggi e non sia paradossalmente di freno per la stessa Repubblica federale. Quindi dobbiamo assistere, assisteremo a un dibattito anche acceso nei prossimi mesi e nei prossimi anni, ma credo che dovremo tenere a mente questo aspetto. La Germania è in crisi e questa crisi potrebbe essere in ultima analisi positiva per l'Unione Europea. Voglio sentire su questo Castaldi e peraltro Castaldi chiariamo anche che quando Draghi parla di debito pubblico comune non parla solo dei tanto famigerati e spesso vituperati Eurobond. Di fatto sì, ma in un'ottica più ampia perché finalizzati a investimenti specifici concordati e dall'altro con l'idea di creare così il mercato dei capitali, degli investimenti europei, creare quella liquidità del mercato che possa permettere di sfruttare al meglio il risparmio europeo che è molto significativo, quindi lo mette in un quadro sistemico molto importante. Quello che diceva Bede Romano è fondamentale. Io ricordo due cose che molti scordano. La prima è che questo governo tedesco ha nell'accordo di coalizione l'impegno per una riforma dei trattati in senso federale dell'Unione. Il fatto che l'Internet dica queste cose dovrebbe essere richiamato all'ordine da socialisti e verdi, che erano specialmente verdi quelli che avevano voluto inserire questo aspetto nel programma di governo tedesco ed era la prima volta che c'era un elemento così esplicito nel programma di governo tedesco. Non è che il governo tedesco è talmente debole e riottoso che è risolto al suo interno che la Germania oggi si astiene su tutto. L'accordo di governo prevede che se non c'è un accordo tra i tre partiti su un atto legislativo, su una decennia europea, il governo si astenga. Praticamente è più di un anno che la Germania si astiene sistematicamente su tutto, perché i tre partiti non trovano mai un accordo. Quindi noi siamo in un contesto in cui siamo senza la Germania in questo momento. L'altra cosa è che oltre alla Germania è in crisi e la Francia. Allora, in passato i passi avanti all'integrazione sono stati fatti grazie alla forza degli stati che spingevano per quello. Deloro è riuscita a fare la moneta unica grazie a quell'emiterranea. Il problema è capire se oggi l'Unione Europea è arrivata a un livello di integrazione tale che può andare avanti in virtù della debolezza degli stati grazie all'iniziativa della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Con stati talmente deboli da non riuscire a bloccare ciò che è chiaramente necessario come mostra il rapporto Draghi. Questo lo vedremo in questa legislatura, ma questa è la sfida per il Parlamento e la Commissione prima di tutto. Chiarissimo. Accendavamo in apertura come dopo vari rinvii la prossima settimana, il 17 settembre, dovrebbe esserci la presentazione della nuova Commissione Europea, anche se appunto dicevamo di questi tumulti tra alcuni partiti. In particolare abbiamo i socialisti che hanno minacciato il veto contro l'eventuale nomina di commissari conservatori. In particolare non piace l'ipotesi Raffaele Fitto, in particolar modo l'ipotesi che Fitto possa avere il ruolo di vicepresidente esecutivo con il portafoglio dell'economia, che insomma sappiamo essere uno dei portafogli più importanti. Perché? Perché Fitto sostanzialmente appartiene al gruppo dei conservatori e dei riformisti europei quando, dicono i socialisti, il secondo mandato di von der Leyen è stato possibile grazie alle forze pro-Unione Europea. Ora chiedo a tutti e tre un parere su questo. Innanzitutto vorrei sapere come si può leggere la mossa di Ursula von der Leyen che peraltro proprio stamattina, ieri, anzi ha ribadito il suo non voler fare dietro front rispetto all'ipotesi Fitto e vorrei capire anche come però si inserisce quest'ipotesi Fitto. Perché sappiamo che in Italia abbiamo la classica spaccatura destra-sinistra, ma in realtà in Europa sì abbiamo la spaccatura destra-sinistra, ma anche quella sovranisti e nazionalisti o europeisti. De Petris innanzitutto. Qui c'è di nuovo un po' forse un equivoco di fondo che ogni volta ritorna quando si parla di nomine europee, perché da un lato tutti rimarcano il fatto che poi il candidato commissario andrà a lavorare come componente della Commissione europea e non come rappresentante di interessi nazionali. I governi nazionali, nello specifico in questo caso, o meglio la classe politica nazionale, in qualche modo interpreta comunque la personalità designata come colui o colei che dovrebbe andare poi invece a rapportare l'interesse nazionale all'interno della Commissione, quando come sappiamo invece non è così, per questo c'è il Consiglio. Quindi in un modo o nell'altro, sia chi è affavorevole, sia contrario all'ipotesi Fitto, secondo me dovrebbe andare un po' oltre questa lettura che è un po' fuorviante. Però è anche vero, immagino, è una mia ipotesi, poi vedremo, che a seconda di come andrà ci sarà chi si ascriverà la vittoria o la sconfitta, a seconda di come andrà poi la situazione Fitto, interpretandola di nuovo come in una prospettiva prettamente nazionale, che certo non aiuta invece una concessione propriamente europea della politica e del ruolo della Commissione e anche dei commissari. Castaldi, come si legge questa mossa di von der Leyen? Due cose, sono d'accordo con De Petrie, il ruolo del commissario non è un riconoscimento al paese, come dice Giorgia Meloni, devono riconoscere il ruolo dell'Italia, altrimenti Lussemburgo non avrebbe mai dovuto avere dei presidenti della Commissione, per il peso di Lussemburgo, e invece è il paese che ha avuto più presidenti della Commissione. Il punto è perché probabilmente Fitto avrà una vicepresenza esecutiva, non è un riconoscimento del ruolo dell'Italia, è un interesse politico di von der Leyen. Oggi qual è l'interesse della maggioranza europeista della von der Leyen? Di spingere i conservatori e riformisti verso l'ala più nazionalista con i patrioti di Orban e l'Alternative for Deutschland dell'Europa Coraziana, oppure di mettere le condizioni di non poter votare contro tutta la Commissione e i suoi commissari perché c'è un vicepresidente di Fratelli d'Italia. E poi questi Fratelli d'Italia e i conservatori cosa faranno? Voteranno sistematicamente contro, come in passato, a tutta la legislazione europea presentata dal loro vicepresidente? Perché la Commissione europea è un organo collegiale, non è il singolo commissario che propone gli atti legislativi, è la Commissione il suo insieme. Quindi i fratelli d'Italia e i conservatori che non vedono loro di avere il vicepresidente esecutivo, si stanno anche preparando a impallinarlo sistematicamente in tutti i voti in Parlamento, votando contro tutte le proposte di la Commissione, oppure il fatto di avere un vicepresidente esecutivo poi li dovrà costringere a prendere delle posizioni diverse dal passato, cioè a entrare su dossier legislativi, a lavorare, a fare i compromessi e a metterci la faccia su quei compromessi, non potendo votare sempre contro tutto. La scelta di von der Leyen è una scelta che va nella direzione di spingere verso un'europeizzazione dei conservatori riformisti, per staccarli dai patrioti e dall'Europa sovrana, delle nazioni sovrane, per cercare di allargare il fronte europeista dentro il Parlamento europeo. E questo è nell'interesse anche di Giorgia Meloni, perché ricordiamoci una cosa, il giustamente diceva che in Europa la divisione europeisti-nazionalisti conta più della divisione destra-sinistra, cioè per far parte dei compromessi legislativi devi stare dentro alla maggioranza europeista. Allora, far la svolta europeista per i conservatori riformisti vuol dire toccare palla nei dossier legislativi, influire e quindi spostare a destra l'asse di tutte le politiche europee, mentre mantenere una posizione fortemente nazionalista in alleanza con i patrioti e l'Europa nazionale sovrana, vuol dire non toccare palla su nessun dossier legislativo e quindi lasciare che l'asse della politica europea sia spostato più a sinistra in una maggioranza tra verdi, socialisti, liberali e popolari. Quindi in un certo senso i conservatori riformisti devono scegliere se fare la svolta europeista e contare qualcosa spostando a destra l'asse delle politiche, oppure se mantenere una posizione fortemente nazionalista e assorbirsi delle politiche europee più spostate a sinistra e non contare granché nel Parlamento europeo. Beda Romano, è questo l'obiettivo di von der Leyen? Quindi europeizzare i conservatori riformisti? Credo che la signora von der Leyen debba comunque tener conto dell'Italia, perché è un paese grande, è un mercato importante, pesa nel Consiglio, ha un bagaglio di voti che è importante, ha un bagaglio di voti anche in Parlamento che è importante, quindi ho la sensazione che la signora von der Leyen al di là dei suoi obiettivi di potenziale europeizzazione dei conservatori italiani, vuole fondamentalmente tenere l'Italia sulla propria barca perché ne ha bisogno. Per quanto riguarda invece la posizione dei socialisti, le critiche nei confronti di Raffaele Fitto, ho l'impressione che queste critiche in realtà riflettono non la forza dei socialisti, ma la debolezza dei socialisti. I socialisti in questo momento hanno la grande paura che nella distribuzione delle deleghe all'interno del collegio vengano in un modo o nell'altro ridimensionati. Non dimentichiamo che vi sono una manciata di commissari socialisti, sono molto pochi, quindi ho la sensazione che quando qualche giorno fa hanno lasciato intendere che avrebbero potuto mettere il veto sui commissari conservatori, ho la sensazione che abbiano nei fatti alzato la posta e ricordato a Ursula von der Leyen di voler contare all'interno della commissione, del collegio in modo da ottenere deleghe interessanti dal loro punto di vista. Chiarissimo Beda, quindi comunque vedremo quali saranno queste lettere di incarico e soprattutto se e quante proposte del rapporto Draghi saranno contenute in queste lettere di incarico. Siamo in chiusura, quindi faccio la stessa domanda a tutti e tre. Alla luce di quello che ci siamo detti, un'Europa come quella disegnata da Mario Draghi, vi chiedo se è possibile innanzitutto e se ci sono possibilità che venga a crearsi. Innanzitutto De Petris. Chiaramente è difficile una risposta secca su questo. Lo stesso Draghi, come diceva prima anche Castaldi, ha prospettato una serie di alternative, di possibili livelli di intervento. A me sembra che ignorare il rapporto Draghi non sia possibile per nessuno, dopodiché quale risposte potranno venire dipenderà dalla capacità di diplomazia, di interazione dei governi nazionali e delle istituzioni europee. Credo che qualcosa succederà. La cosa peggiore che potrebbe accadere che succeda quello che è successo anni prima con il piano dell'oro. Ignorare la proposta di Draghi, che semplicità secondo me non ci porta da nessuna parte. Poi le risposte concrete verranno, probabilmente cominceremo ad averne qualche idea più concreta dopo la formazione della Commissione, quando i rapporti di forza interni alle istituzioni europee saranno più chiaro. Castaldi? Non so se succederà, so che è indispensabile, non so se è possibile, ma certamente è necessario. La sfida quindi è vedere quali saranno le leadership politiche che spingeranno in quella direzione. Quindi prima cosa è vedere se Ursula von der Leyen cosa mette nelle lettere d'incarico, quanto la Commissione spingerà per andare verso le forme dei trattati per dotare la Commissione stessa, cioè l'embrione del governo europeo, delle competenze e dei poteri necessari per trasformare quel programma in un programma di governo? E quanto il Parlamento spingerà in questo? Che capacità avranno di spingere il Consiglio europeo ad andare in quella direzione convocando la Convenzione? L'altra cosa che però sarà interessante vedere è che farà Draghi. Ha presentato il suo rapporto alle istituzioni europee, ma la società civile, l'accademia eccetera, riusciranno a coinvolgere Draghi, che so, in un giro, in tutta Europa, in tutti i paesi a discutere il suo rapporto con la classe dirigente politica, economica e culturale di tutti i 27, per creare il consenso, il momentum, la spinta per andare in quella direzione, perché non dipende solo dagli altri, dipenderà anche da quello che ciascuno di noi come un professore, un fintank, un giornale eccetera. I giornali hanno parlato del rapporto Draghi, continuano nei prossimi cinque anni ogni volta che l'Unione non farà qualcosa o farà un pezzettino troppo piccolo di quelle proposte a dire, ma ricordatevi che avremmo dovuto fare ben altro. Perché è chiaro che se, come dire, l'attenzione sul rapporto Draghi durerà due settimane, difficilmente riusciremo a realizzare quel rapporto. Se l'attenzione dell'opinione pubblica, dei media, della classe pubblica, se riusciremo a tenerla alta su quello, diventerà sempre più difficile dire non lo facciamo, perché le ragioni per farlo sono ordinarie. Mantenere quindi l'attenzione alta su questo documento, Beda, Beda Romano. Credo che il rapporto Draghi abbia un alleato, che è la crisi profonda in cui versa l'economia europea. Questa crisi a un certo punto avrà degli impatti, avrà un impatto politico. C'è un aspetto nella situazione attuale che potrebbe giocare a favore del rapporto Draghi e del suo futuro. La crisi di competitività riguarda tutti i paesi europei, non ce n'è uno che non abbia difficoltà a competere a livello internazionale. Anche quelli più insospettabili, diciamo. Tutti i paesi hanno difficoltà e queste difficoltà hanno delle ricadute sociali, economiche e politiche a livello nazionale. I governi dovranno decidere se mettere in pratica il rapporto Draghi, che è una ricetta possibile. L'alternativa evidente è che potrebbero decidere di chiudersi su se stessi. Ho la sensazione che sia sempre più difficile per questi paesi chiudersi su se stessi, perché il mercato unico lo permette fino a un certo punto. Quindi in realtà la crisi di competitività a livello nazionale, con le sue ricadute a livello nazionale, potrebbe essere in realtà l'incentivo migliore per far sopravvivere il rapporto e metterlo in pratica. E allora io ringrazio Roberto Castaldi, Andrea De Petris e Beda Romano per averci illustrato un po' l'Europa di oggi, ma anche per averci dato qualche suggestione sull'Europa di domani. Grazie ovviamente a voi per averci seguito, Macro torna venerdì prossimo e non mi resta che augurarvi buona giornata.